La sicurezza va benissimo, ma la sicurezza è una cosa seria, deve essere gestita da chi si occupa di sicurezza. Le ronde fatte così, le reti di cittadini che segnalano, le stanno attivando dappertutto e le stanno attivando anche tanti sindaci di sinistra. Non ci scherziamo tanto, perché hanno fatto arrestare 5 persone questi a Sorbo, non è che proprio vanno lì. No, ma perché servono in realtà, cioè queste reti di cittadini con anche gli amministratori, che sono collegate con le forze dell'ordine, perché un conto è quando le forze dell'ordine vengono chiamate da un interlocutore accreditato, diciamo, intervengono immediatamente. Facciamo ogni metro una segnalazione.